Serturini Bitzer si appoggia su di Krisch il destro con il tacco Bernauer Attenzione a Greggi quindi Piemonte prolunga bene per Bernauer c'è spazio per Vanessa arriva il 2 a 0 della Roma 2 a 0 della Roma Vanessa Bernauer Centralmente per Greggi il taglio preciso di Bernauer il sinistro l'uscita tenta di Guidi che mette in calcio d'angolo c'è al centro libera Piemonte la serve Maria Zecca pallone forse troppo lunga arriva Piemonte si appoggia su Serturini c'è l'uscita del portiere dribbling di Serturini e poi il destro viene respinto sulla linea arriva Di Crischio ancora sulla linea spazio per Zecca sulla destra il cross interessante per Pugnali arriva il 3 a 0 di Luisa Pugnali c'è spazio attenzione a sinistra per Polverino servita proprio in questo momento il destro e arriva il gol del 3 a 1 e arriva il 4 a 0 di Luisa Pugnali e arriva il 4 a 0 di Luisa Pugnali e arriva il 4 a 0 di Luisa Pugnali